Questa video-lezione è per il secondo liceo scientifico e tratta un argomento che in effetti si trova all'interno di un'altra video-lezione, che è la prima video-lezione che ho fatto dato il periodo di pandemia, infatti data del 9 marzo 2021. Però preferisco farne un'altra perché questa video-lezione era molto lunga e trattava del primo teorema fondamentale sui triangoli rettangoli. Preferisco fare quest'altra dove tratto solo ed esclusivamente appunto il primo teorema fondamentale sui triangoli rettangoli. In quell'altra video-lezione, che comunque tu puoi vedere perché data, ripeto, del 9 marzo 2021, avevo voluto, diciamo, trattare anche le applicazioni alla fisica di questo teorema perché proprio desidero dedicare interamente a questo teorema una video-lezione, che dovrebbe essere abbastanza breve, perché questo teorema è forse, è tra i più importanti di tutta la matematica, forse il più importante, ed è importante anche perché è importantissimo in fisica, ha un'applicazione massiccia alla fisica, il primo teorema fondamentale sui triangoli rettangoli, tant'è che io in fisica ritengo opportuno farlo in secondo liceo scientifico, laddove, se si dovesse aspettare la prosecuzione logica del corso di matematica, tu lo conoscerai soltanto al quarto anno, quando farai la cosiddetta trigonometria. Siccome è però talmente importante in fisica, m al secondo, non al primo anno, al secondo anno è meglio farlo. Al primo anno abbiamo fatto il concetto di seno e coseno, adesso al secondo anno siamo in grado di capire questo teorema importantissimo. Primo, teorema fondamentale sui triangoli rettangoli. Al livello di secondo anno, d'altronde, basta fare il primo, perché capisci bene che se si chiama primo teorema fondamentale sui triangoli rettangoli e ce ne sarà anche un secondo, e il secondo può essere rimandato al terzo anno, insomma può essere rimandato più avanti perché non direttamente importante in fisica come il primo. Allora, intanto devo cercare di farti capire delle convenzioni sui triangoli rettangoli. Il triangolo rettangolo noi possiamo sempre indicarlo con le lettere in senso anti-orario, questo non è un problema, però in un triangolo rettangolo noi l'angolo retto lo indicheremo, il vertice dell'angolo retto lo indicheremo sempre con la lettera A, maiuscola come tutti i punti, quindi ABC. Gli angoli interni del triangolo verranno indicati con alfa, beta e gamma e questo probabilmente tu lo sai già. Quello che devi capire adesso per comprendere immediatamente questo teorema è che le misure dei lati avranno la corrispondenza con le lettere degli angoli. Per esempio, il lato opposto all'angolo alfa verrà indicato, la sua misura verrà indicata con A, A piccolo, il lato opposto all'angolo beta avrà misura B, il lato opposto all'angolo gamma avrà misura C, cioè le misure saranno le lettere italiane corrispondenti alle lettere greche che afferiscono agli angoli. Chiaro? L'angolo retto quindi avrà sempre vertice A e quindi sarà alfa. Con alfa noi nel triangolo rettangolo dobbiamo sempre indicare l'angolo retto. Allora, siccome sai bene che il lato opposto all'angolo retto è l'ipotenusa, la misura dell'ipotenusa noi la indicheremo sempre con A piccolo, B piccolo e C piccolo saranno le misure dei cateti. Ci siamo? Cioè praticamente, e ora quindi dovremo scrivere, praticamente dobbiamo avere questa figura, semplicemente un disegno per ora, dovremo avere il triangolo rettangolo fatto così. L'angolo retto A, B e C, quindi l'angolo retto di vertice A e lo chiamiamo alfa, l'angolo di vertice B lo chiamiamo beta, l'angolo di vertice C lo chiamiamo gamma. Talvolta, insomma, si indica con un quadrettino l'angolo retto, vabbè. Chiaro? Allora, la misura, vedi, attenzione alla differenza fra i segmenti e le misure. A, B è il, scritto così, e il segmento A, B. Se io invece scrivo così, intendo la misura del segmento A, B. attenzione alla differenza, perché A, B è un segmento, un ente di natura geometrica. La misura di A, B invece è un numero. Quindi c'è una meravigliosa differenza fra il segmento e la sua misura. È un ente, la stessa differenza che c'è fra un ente di natura geometrica e un ente di natura, è un ente semplicemente numerico. e la misura del cateto AC sarà questa, la misura di BC, che sarà l'ipotenusa, sarà questa. Per la convenzione che abbiamo detto prima, la misura di AB da noi verrà indicata con C, la misura di AC da noi verrà indicata con B, piccolo, e la misura di BC, cioè la misura dell'ipotenusa, verrà indicata con A. Ecco, queste sono le convenzioni universalmente utilizzate sui triangoli rettangoli. E la trigonometria, quel ramo della matematica che tu comincerai a studiare a partire dal quarto anno, sicuramente le utilizzerai. Nel tuo testo di matematica vedrai sempre che la misura dell'ipotenusa verrà indicata con A e le misure dei cateti con B e C. Questo anche per snellire, diciamo, i procedimenti e le notazioni. Allora, come dimostriamo il primo teorema fondamentale sui triangoli rettangoli? Devi fare questa, diciamo, questa costruzione geometrica. Disegniamo una circonferenza goniometrica, cioè centrata su un sistema di assi cartesiani ortogonali. Chiaro? Vedi? Poi, in questa circonferenza, a partire dal centro di questa circonferenza e del sistema di assi cartesiani, disegniamo il nostro bel triangolo rettangolo. Ci siamo? e se vogliamo indicare le lettere, il A deve necessariamente, non è possibile fare altrimenti, deve essere il vertice del triangolo rettangolo, il vertice dell'angolo retto. B e C, se vogliamo utilizzare il senso anti-orario, ma in questo caso è meglio di no, facciamo A, B, C. perché il verso anti-orario non è poi una conversione, una convenzione cogente, cioè che ci costringe, va bene? Quindi questa lettera è C. E allora? La misura di A, B sarà C, la misura di A, C sarà B e la misura di B, C, cioè dell'ipotenusa sarà A e questo, che quello che avevo detto prima, vale anche per questo triangolo rettangolo. Vedi? L'unica cosa strana che tu vedi in questo disegno è che il centro di una circonferenza venga indicato con B. Di solito il centro di una circonferenza si indica con O oppure con C, qua dobbiamo indicarlo con B perché vedi coincide col triangolo A, B, col triangolo rettangolo, col vertice B del triangolo rettangolo A, B, C. Chiaro? Quindi questo angolo qui sarà beta e se indichiamo con P l'intersezione dell'ipotenusa con la circonferenza e con H il piede della perpendicolare praticamente vedi noi abbiamo il seno e il coseno perché se ti ricordi e c'è comunque una recente video lezione su Seneco solo sulla definizione di seno e coseno se ti ricordi la misura del segmento pH è il seno di beta e quindi il seno di beta è un numero perché si intende per misura il numero semplicemente della corrispondente all'unità di misura quando dico la misura di un segmento non voglio dire ovviamente che il seno si misura in metro e in centimetri il seno è un numero puro la misura del segmento pH però intesa come numero puro la misura invece di BH sarà il coseno di beta chiaro? ti ricordo la definizione di Seno e coseno semplicemente l'angolo al centro della circonferenza coniometrica qui lo chiamiamo per esigenze logistiche lo dobbiamo chiamare beta e non alfa va bene? quindi alfa è l'angolo retto e gamma è quest'altro angolo allora dalla similitudine dei triangoli ormai sulla similitudine abbiamo fatto anche una recente video lezione dalla similitudine del triangolo ABC che è appunto simile a BPH come è immediato perché praticamente BPH è ottenuto con un con un lato parallelo al quello al lato del triangolo più grande dalla similitudine fra i due triangoli desumiamo la proporzionalità fra i lati omologhi quali sono i lati omologhi? beh capisci bene che AC è omologo APH perché sono entrambi opposti opposti d'angoli uguali cioè angoli retti e ovviamente anche l'angolo in H è retto chiaro? quindi dalla similitudine fra triangoli argomentiamo la proporzionalità dei lati omologhi quindi possiamo dire per esempio che AC sta APH come BC sta ABP se prima prendiamo il triangolo grande nel primo rapporto prendiamo prima il triangolo grande ovviamente anche nel secondo rapporto dalla proporzionalità fra i lati argomentiamo la proporzionalità fra le corrispondenti unità di misura e ricordo quindi vedi da qui l'abbiamo scritto qua la misura di PH SM beta la misura di BH che sia cosa in beta per il momento non ci interessa la misura di AC è uguale a B e la misura di BP quant'è? vedi l'unica c'eravamo dimenticati l'unica che non avevamo detto quant'è la misura di BP ma la misura di BP è uguale a 1 perché vedi da questa figura che BP è il raggio della circonferenza goniometrica ti ricordo che per definizione il raggio della circonferenza goniometrica è uguale a 1 e allora da AC sta PH come BC sta BP cosa possiamo dire? la misura di AC la indichiamo con B la misura di PH è semplicemente il seno di beta la misura di BC è A cioè la misura di ipotenusa e BP la misura di BP è pari a 1 chiaro? quindi da qui le proporzioni le conosci fin dalla scuola media quindi sai che per trovare un medio per ottenere un medio dobbiamo fare il prodotto degli estremi diviso il medio conosciuto e viceversa siccome B qui se desidero B è un estremo devo fare il prodotto dei medi e dividere per l'estremo conosciuto ma posso fare semplicemente il prodotto dei medi vero? B uguale A sem beta è inutile che divida per 1 tanto ottengo sempre B uguale A sem beta chiaro? ecco questo è importantissimo è la formula che esprime il primo teorema fondamentale sui triangoli rettangoli attenzione questo teorema come si dice dalle mie parti si inchiumba non si impara a memoria si deve inchiumbare cioè da ora in poi non te lo dovrai dimenticare mai più guarda cosa abbiamo dimostrato B è la misura di questo cateto del cateto a C vedi? ed è pari al prodotto della misura dell'ipotenusa per il seno dell'angolo opposto perché beta è l'angolo opposto a B non solo ma potremmo dire a sicché se è beta potremmo dire benissimo anche cosen gamma perché sai bene che beta e gamma sono complementari in un triangolo rettangolo no? perché la somma degli angoli interni deve fare 180 quindi beta più gamma deve fare 90 perché anche alfa è pari a 90 quindi beta e gamma sono complementari sai dal concetto di seno e coseno che coseno complementi sinus vuol dire proprio seno del complemento quindi il seno di beta sarà uguale al coseno di gamma quindi qua io avrei benissimo potuto scrivere anche a coseno di gamma e allora attenzione a questo punto te lo dico soltanto perché è inutile che te lo scriva tanto se vuoi puoi fermare il video il bellissimo importantissimo teorema che abbiamo dimostrato come si enuncia il primo teorema fondamentale sui triangoli rettangoli afferma che in ogni triangolo rettangolo la misura di un cateto è pari al prodotto della misura dell'ipotenusa per il seno dell'angolo opposto o per il coseno dell'angolo adiecente chiaro? in ogni triangolo rettangolo la misura di un cateto in questo caso noi l'abbiamo dimostrata solo per B la misura di un cateto è pari al prodotto della misura dell'ipotenusa per il seno dell'angolo opposto o per il coseno dell'angolo adiecente chiaro? attenzione questo è un teorema importantissimo soprattutto per le applicazioni alla fisica ecco perché avevo fatto quella video lezione del 9 marzo però lunga 36 minuti perché c'erano pure le applicazioni qua facciamo solo questo teorema però attenzione a denunciarlo come ho detto in ogni triangolo rettangolo la misura di un cateto non un cateto la misura di un cateto è pari al prodotto non dell'ipotenusa ma della misura dell'ipotenusa per il seno dell'angolo opposto per il coseno dell'angolo adiecente perché attenzione che se ne coseno sono dei numeri quindi noi non possiamo confrontare dei numeri con dei segmenti sarebbe grave errore dire che in ogni triangolo rettangolo l'ipotenusa è pari il cateto è uguale all'ipotenusa perché non c'entra nulla chiaro? ripeto e tanto poi te lo puoi risentire in ogni triangolo rettangolo la misura di un cateto è pari al prodotto della misura dell'ipotenusa per il seno dell'angolo opposto o per il coseno dell'angolo adiecente grazie dell'attenzione grazie a tutti